Buonasera, visualizzazioni e bentornati in questo nuovo video. Allora, sarò molto chiaro su una cosa. Viste alcune cose che sono successe questa settimana, e visto anche il fatto che non so se sia già uscito il video, non so, comunque sia, io e Mortebianca abbiamo organizzato una cosa sul suo canale per quanto riguarda il parlare della fetta acceptance, in questa settimana mi sono piovute addosso una quantità in mani di commenti acidissimi da parte di un sacco di gente, solo e unicamente riguardo il fatto della grassofobia, queste cose qui. Quindi oggi ci concentreremo soltanto su questa roba qua, e intendo mettere un paio di puntini sulle i, perché alcune cose non mi sono piaciute per niente. E i commenti che sarebbero dovuti andare per questa settimana si aggiungeranno semplicemente a quelli per la settimana prossima. Quindi settimana prossima vi sono i commenti gigante. Ora quindi, ve lo dico già adesso ragazzi, intanto vi metto la felpa che oggi ho freddo. Ah, maglie e felpa di pampling, codice sconto, gematria tutto maiuscolo, per sconti extra, calze gratis, la sapete la storia. Dunque, quello che mi sono trovato davanti fa veramente paura, perché non è possibile che le persone siano così tanto in mala fede dal non voler capire alcune cose, e qualcun altro magari al posto mio avrebbe fatto un video in cui si sarebbe scusato per aver usato i toni. Io non mi scuso di assolutamente nulla. E anzi, iniziamo a vedere la roba di oggi. Io non capisco il perché l'essere grassa e il volerlo restare dia così tanto fastidio. Nessuno deve la propria salute a nessuno. Non è sano. E quindi? Non è bello visivamente per te o per tanti altri? Va bene anche quello, ma una persona grassa non deve per forza voler perdere peso o andare in palestra o fare sport. C'è gente grassa che è ok con l'essere grassa. E ha il diritto di farsi vedere dal vivo sul web. Ha il diritto di mangiare in pubblico, di ballare e di parlare di se stessa sul proprio profilo social. E chi te l'ha mai negato? Il punto qui non è che stiamo parlando di una persona che fa qualcosa e tra le tante cose è grassa. No. Stiamo parlando di persone che trattano questa roba qua come un superpotere. E di questo che stiamo parlando. Non stiamo parlando del fatto che, oddio, io sono spaventato dalle persone grassi. Ma stai scherzando? Ma perché mai dovrei essere spaventato, comunque sia a ritenermi minacciato, oddio, eh, dalle persone grassi? Ma perché? Che senso ha? È una caratteristica fisica. Se poi non ti piace il fatto che qualcuno ti dica guarda, è modificabile. Perché noi in quel video ci siamo concentrati sul fatto che queste persone accampito un sacco di scuse per giustificare un qualcosa che non ha bisogno di giustificazioni. Perché nel momento in cui stai bene con te stesso, non ti devi giustificare di niente con nessuno. Ma queste persone campano tutti i giorni della propria vita dovendo giustificare quello che fanno perché evidentemente così bene stanno. Che mi venga a dire una persona è genetica. No, quella roba non è genetica, ragazzi. E di nuovo, queste persone molto spesso si approfittano delle malattie che persone hanno veramente per giustificare la propria pigrizia. E vabbè, c'è nel senso vuoi essere pigro nella tua vita? Tranquillo che si vede anche negli altri ambiti. Non ti preoccupare. Ma vuoi essere pigro? Lo puoi fare, però ammettilo. E non mettere su delle scuse come per esempio no ragazzi, ma costa troppo, è difficile. Ma di queste cose non parleremo bene, tutto quanto. Siamo così tanto in mala fede che si arriva addirittura a chiedere come fai a sapere che sono obese? Come fai a sapere che sono obese? Ma chissà. Ragazzi, voi avreste mai detto che questa persona è obesa? Ah, mannaggia, devo essere veramente un cattivone. E di nuovo, il fatto che tu mi chieda come fai a saperlo? Sei il suo medico, sei questo. Ma ce li hai gli occhi? Cioè, chiedo. Come fai a sapere che questo qui è un foglio di carta? Eh, potrebbe essere chiuso, è il suo medico? Che cazzo vuol dire? Ma tu vedi che ci dobbiamo mettere a fare i discorsi filosofici? Se una persona è grassa o meno... Lo è, punto. È obesa, non è grasa, è obesa. E non lo dico io. Vogliamo fare una scommessa? Guarda, ci scommetto un milione di euro. Prendiamo quella persona, io e te che hai scritto sto commento, e la andiamo a portare davanti a un medico. Gli facciamo fare tutte quante le analisi. E se è obesa mi dà un milione di euro. Ci fai? Ah, io ci faccio. Allora, ecco le cose grassofobiche che ha detto Gemma. Uno, afferma che le persone obese lo siano perché non vogliono impegnarsi, perché sono pigre. Quando l'obesità è spesso data a un disturbo alimentare, un rapporto malato col cibo. Gemma sta in questo modo sminuendo il problema. Io non ho mai detto che le persone obese in generale lo siano perché sono pigre e basta. Non mi mettiamo in bocca roba che non ho detto. Io ho detto che quelle persone in particolare, a parte non ho mai negato che possano avere disturbi, anzi, nello stesso video dico ragazzi, questa roba qua ovviamente, poi spesso la do per scontato perché purtroppo la buona abitudine di credere nella buona fede della gente, perché io sono una persona che in cattiva fede le cose non le fa, e quindi dico, vabbè, è ovvio il fatto che l'obesità sia collegata a delle cose psicologiche, non sono così stupide le persone a doverlo specificare ogni due secondi. Invece sì, invece sì, perché altrimenti non ci sarebbero scritte queste boiate. Il fatto lì non è il fatto che stai avendo tu da solo per i fatti tuoi un rapporto malato con il cibo. Quello è un problema, si risolve con le giuste metodiche, le giuste cose, e ok, ci vuole tanta fatica. Il punto è far passare il messaggio che guarda come mangia una persona grassa non interessata a mettersi a dieta, ma che è un vanto. Critica una tipa che non sta promuovendo un cazzo, stava letteralmente ballando, stava condividendo una memoria felice di lei che balla. A quanto pare le persone grasse devono vergognarsi di esistere per Gemme, quindi come si permette questa di essere felice una volta? Scandalo. Di nuovo, no! Quello è un account di una persona che, sì, in quel momento stava facendo, ma ci stavamo concentrando sul fatto che sono degli account che fanno la glorificazione del grasso. Quello è il punto. Come cazzo si fa a non capirlo? 3. Assume che l'obesità ed essere grassi siamo la stessa cosa. Quando non è così, è che qualunque peso vada oltre o più in basso dell'essere palestrati o normopeso sia dannoso per la salute. Se vuoi continuo, periodo di continuare all'infinito. Per quanto riguarda la salute, là non è che lo dico io, lo dice la scienza, però entro un certo limite, sti cazzi, cioè va bene. Nessuno ti verrà a dire che morirai domani perché non sei il mister Olimpia, ma devi essere fuori di testa per dire una cosa del genere. Nessuno andrà a una persona che magari non si allena in palestra, non fa delle cose a dirgli ah 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 che morirai domani. No, non vuol dire niente. Posso morire pure domani io col bilanciere che mi trancio a quel collo, capito? Il punto qui è che io non ho mai detto che un peso che vada oltre o più in basso dell'essere palestrati o normopeso sia dannoso per la salute. Io ho detto che quella roba, quella in particolare è dannosa per la salute ed è dannosa per la salute sia fisica che mentale sia di quelle persone lì che delle persone che le prendono come modelli. Quello detto. Cazzo. Sono quasi tutte persone statunitensi e vari studi lamentano che negli USA il cibo sano è appannaggio quasi esclusivo della classe medio alta. Le persone con un reddito basso fanno molta più fatica a seguire una dieta bilanciata anche per ragioni culturali, di tempo che possono dedicare a cucinare e di abitudini causate anche a decenni di strutture politiche. Punto uno, questa roba è una boiata e l'ha spiegato morte bianca nell'altro video, te lo vai a rivedere perché lui ne sa molto più di me. L'ho chiamato apposta. Ma punto numero due, e qui vi voglio, qui voglio, perché qua, capito, stiamo quasi facendo finta che le persone che vi ho mostrato non siano delle influencer, non siano persone con i soldi che gli sbucano dal buco del culo, capito? È quello che mi dà fastidio, perché qua non stiamo parlando di una persona che fa parte della classe media, non so, un operaio, un qualcuno. No, no. Stiamo parlando di persone con la villa, con la macchinona, con tutte queste cose qui. Ah, capito? Quindi non stiamo parlando di gente che non sa dove andare a prendere i soldi, di gente che non arriva a fine mese. No, stiamo parlando di gente che se vuole mi si compra, quindi che mi venga a dire ah, costa troppo, ah sì, costa più di 200 euro di McDonald's e le ho viste queste cose, sia chiaro, le ho viste con i miei occhi che succedono queste cose qui, anche qui in Italia. Non è un qualcosa che dico oh, oddio. Ragazzi, le cose fatte bene, hanno bisogno di sacrifici, hanno bisogno di impegno. Nessuno ha detto che sia facile, nessuno ha detto che sia un qualcosa che dall'oggi al domani schiocchi le dite e sta a posto. Non è così, fosse così, non sarebbe un qualcosa che un sacco di persone non riescono a ottenere, ovvero la salute, non il fatto che devi essere bello, il fatto che per me devi essere bello, no, non è quello il punto. Se hai capito questo di quel video, preoccupati. E anche qua, di nuovo, non stiamo parlando di gente povera, chiaro? Gente povera, lo capisco, posso capire. Gente con delle malattie, sono il primo a dire non esiste che qualcuno apra bocca sulle malattie. Gente che non ha questi problemi, mi dispiace, mi dispiace veramente tanto ragazzi che vi facciate tirare scemi da queste cose qui perché sono assurdità e probabilmente sta gracchiando tantissimo l'audio perché oggi sto urlando, perché ste cose mi fanno babbo. Il problema qua è però giudicare una singola giornata in modo tanto disgustato quando sappiamo che ci sono fior fiori di persone magre che spesso in una singola giornata mangiano solo pizza e patatine, ammettetelo, il classico amico amica che mangia solo merda e non ingrassa, più o meno, eccomi. Però se lo fa una persona grassa mi viene molto di più a giudicarlo. Magari gli altri giorni chissà che mangia, non si sa, sì vabbè, cioè non si sa cosa mangia, come mai è così, oddio, tutti gli altri giorni in salata, ops, quell'ultimo. Ragazzi ma veramente, veramente dobbiamo dire, io non voglio neanche continuare a leggere, guarda, che perché vedo che qua sono stesse cose che abbiamo letto anche prima, risposto anche prima, ma, cioè, ma veramente credete alla boiata del fatto che che ne sai che cosa mangia quella persona durante il giorno, magari ha dei disturbi, magari ha delle cose. Ragazzi, nel caso sia così mi dispiace, ma non ci credo che queste persone in particolare siano così, ok? Perché no, il corpo umano non funziona così, mi dispiace, salvo qualche patologia, salvo qualche cosa e, ripeto, cioè io l'ho data per scontata questa cosa qui, ho detto, vabbè, è ovvio che se si tratta di una patologia o una cosa, a parte che la persona in particolare penso che sia la prima a mettersi sotto a lavorare nel modo possibile o che comunque sia venga aiutata. Quello che abbiamo visto in quel video lì non sono persone che ti dicono guarda questa patologia, no, ti dicono no, sono così geneticamente. Sì? Veramente? Assomiglia a Baymax geneticamente? Buon per te, sarà una buona controfigura, ma io non ci credo. Cioè, come fai a crederci? Non faccio mai critiche perché ognuno ha il suo pensiero, però penso che almeno i video delle ragazze che ballano possano essere utili per prime a loro che li fanno e meglio ancora se vogliono altre persone in sovrappeso a fare il movimento. Sì, ok, questa cosa avrebbe senso se questi fossero account di persone che non stanno lì a dirti ah, guarda un po', sono grassa quindi sono bella magari fossero persone che ti dicono guarda, muoviamoci che così, no, sono degli account in cui vabbè ragazzi non posso spiegare 300.000 volte la stessa cosa. Bro, hai idea di quanta gente magra mangia come la ragazza del primo video? Ha giusto, l'importante è essere esteticamente belli per la società, quindi se ti rovini ma lo sei tutto ok, dimenticavo. non ti è chiaro forse il concetto di tolleranza agli sgarri. La differenza tra una persona che si allena costantemente sia a livello di forza di salute di resistenza e di tutta quella serie di skill che a queste persone manca perché non si muovono mangiano male e quelli sono i risultati sia fisici che mentali ripetiamo non si tratta di essere magri grassi si tratta di avere una tolleranza a queste cose. Io se mi voglio sfondare un giorno ho la capacità di tollerarlo tolto il fatto che bene non fa però la capacità di tollerarlo meglio perché mi alleno 4-5 volte a settimana per tanto tempo perché il resto della settimana mangio bene perché il resto della settimana so cosa mangio e a queste persone io ho notato anche che manca proprio il concetto di macronutrienti di tutte queste cose qui ma non dico che tu debba essere un nutrizionista però almeno sapere quello che ti ficchi nel corpo sarebbe utile no? giusto capirlo? c'è per esempio gente che non ha idea di quante calorie abbia l'olio d'oliva sono delle conoscenze che dovrebbe avere una persona di base per capire come funziona il corpo invece no funziona tutto quanto con i nastrini con i filtri su Instagram bellissimo ma anche qui non si tratta di essere magri grassi belli quindi puoi mangiare grasso non puoi mangiare no si tratta di capire che cazzo stai facendo cioè ma veramente così aliena come richiesta? poi non vuoi farlo? fatti i tuoi io sono libero di ricordarti che nel momento in cui ti metti a vantarti sui social di guarda quanto sono felice così ti ricordo che non è vero perché non avresti bisogno di dirlo oltre al fatto che tu sei felice così perfetto qualcun altro potrebbe morirci di questa roba qua perché la gente ci muore tu non pubblichi video dove balli? ok cioè capite è sempre quello il discorso ah tu non lo fai quei video non sono pubblicati per far vedere quanto balla bene quei video sono pubblicati per dire alle persone guarda sono grasse eppure posso fare questa roba qua cioè c'è sempre di mezzo il grasso capito? e questo è il punto è l'unica cosa che ho fatto in quel video a parte che no io non pubblico i video dove ballo perché non so ballare sarebbe un dispiacere per gli occhi della gente ma anche là ci si sta soffermando su delle cose che nessuno e dico nessuno è lì per vedere perché commenti sotto quei video non sono di persone che dicono oddio quanto balli bene no sono di persone che gli dicono tutti quanti sei bellissima così come sei non devi cambiare mamma mia che belle ragazze cioè è solo questo è solo questo ma non vi sentite presi per il culo ciao gemmo onestamente non sono molto d'accordo sul fatto che se vedi una persona obesa allora è sicuramente pigra o si ingozza fino a stare male ci sono moltissime persone che soffrono questo disturbo alimentare e molte non sono diventate così per sedentarismo è anche difficile per gli obesi fare fitness perché comporta molta fatica rispetto a una persona magra purtroppo si tende a giudicare una persona all'aspetto fisico senza considerare minimamente cosa la porta ad essere così come il bullismo le malattie di quel diabete anche la costituzione fisica che diventa sempre più lenta man mano che si invecchia i disturbi alimentari sono patologie molto serie come lo sono l'anoressia per esempio molto probabilmente i ragazzi del video cerchiano di tirarsi su dicendo a se stesse e agli altri che si sentono belle anche così e chi si è andato per giudicarle dopo tutto scusa il papiro lunghi sia buona giornata di nuovo io non è che giudico perché cioè aprire bocca su un qualcosa non vuol dire giudicare per forza il punto è che quello lì è un ambiente dal quale io mi sono sentito di mettere le persone perlomeno i ragazzini soprattutto in guardia perché ti fanno credere che la società sia il problema che tu non devi essere qui semplicemente perché gli altri poi possano dirti qualcosa non è quello il problema ragazzi tanto gli altri pure se salvi un bambino da sotto una macchina ci avranno da ridire per il fatto che gli hai graffiato lo pneumatico se tu ti stai a preoccupare di quello che pensano gli altri che posso essere pure io stai sbagliando tutto su ciò che dovresti mettere come focus della tua attenzione non è il fatto che gli altri possono dire possono pensare possono fare il fatto è una volta che qualcuno ti ha detto ah sei grasso finisce lì quello se ne va si dimentica che esisti tu rimani col fatto che potresti avere dei problemi cardiovascolari non è potresti ce li avrai dei problemi cardiovascolari dei problemi a quelle stazze anche soltanto per quanto riguarda la deambulazione il muoverti il vivere una vita normale piena ma perché uno dovrebbe essere contento davanti a una cosa del genere poi lo sei anche lì c'è da vedere se stai bene di testa di nuovo io sono pro al fatto che una persona si mostri come vuole non sono assolutamente contro il punto è il messaggio il punto è sempre il messaggio nessuno di queste persone e vorrei fosse chiaro tratta qualcosa di diverso dal dire a tutti quanti tutti i giorni della propria vita ehi sono grasso questo è l'argomento capito non parlavo di altro se fossero le persone che fanno qualcosa di veramente interessante cazzo sono qualcuno di obeso però che ne so ti tratta di cucina io seguo un cuoco bravissimo sto qua pesanzo neanche quanto ma fa delle ricette che fanno paura e non mi verrebbe mai in mente andare a dirgli oddio seguo anche delle persone che che ne so fanno video in cui trattano di editing video in cui trattano di tanti argomenti di tecnologia di roba interessa cioè capito il mio problema non è il peso a me non me ne frega niente e soprattutto pensi veramente che nelle palestre che frequento non ci siano delle persone sovrappeso obese ma che stai scherzando a me non verrebbe mai in mente andare là e dirgli seriamente ma guarda sei grasso fai schifo no ma che stai scherzando ma che mostro fa una cosa del genere io no in quel video non abbiamo trattato il fatto che queste persone sono grasse quindi non vanno bene no abbiamo trattato il fatto che quell'ambiente sia la glorificazione del rilasso che sono due cose diverse non commento mai ma scusa se te lo dico non sei scusata sei davvero una persona molto ignorante non hai proprio la capacità di prendere in considerazione un argomento e di svilupparlo in maniera analitica con tutte le variabili del caso in senso approfondito tutto ridotto a un giudizio di chi non vede oltre il proprio naso cerca di farti una cultura di base prima di dare sentenze mi spiace dirtelo ma spero tu possa migliorare le tue capacità di ragionamento non mi hai neanche detto quali sono queste cose che non capisco quindi ti schippo ma se loro si piacciono così e ci fanno i video perché ti disturba tanto con tutte le donne che ci sono su tiktok magre con le dette siliconate di fuori guardati quelle ma io non ho mai detto di apprezzare quella roba quella roba a me fa ribrezzo santo dio ragazzi ma c'è possibile che bisogna sempre scendere a questi livelli e oltretutto cosa cambia dirmi una cosa del genere rispetto a ciò che ho detto io niente te lo dico io cosa cambia nulla veramente ragazzi ho davanti tantissimi commenti che veramente gente che mi vabbè se è scaricata la videocamera ragazzi io non ho voglia di continuare vi dico soltanto che questa roba qua fa ridere perché c'è gente che sta leggendo tra le righe roba per cui non c'è bisogno di leggere tra le righe perché io non ho inteso nessuna riga non c'è nessuna riga da leggere semplicemente se qualcuno ha la possibilità di dimostrarmi che quello stato faccia bene al corpo e alla mente io sono contentissimo di far finta di ascoltarlo perché non esiste una cosa del genere per quanto mi riguarda io non giudicherò mai in vita mia nessuno solo per il fatto che sia grasso non esiste ripeto che quella lì è una condizione che oggi ce l'hai domani potreste non avercela sette impegni così come un sacco di altre variabili ci sono però alcune cose che non vanno bene in particolare la glorificazione di queste schifezze qui e per schifezze non intendo il grasso intendo un modo di comportarsi che a me non piace sono libero di dirlo tu sei libera di ballare e di fare questa roba a cui di dire un sacco di puttanate le ragazzine io sono libero di dirgli la verità a queste ragazzine perfetto ciao ciao